L'influencer milanese ha parlato per la prima volta pubblicamente della fine del rapporto con il ballerino. Nelle scorse ore Tommaso Zorzi, giovane creator ed influencer milanese, seguito da oltre un milione di followers, vincitore del grande fratello VIP5, e ancor prima noto al pubblico per la sua partecipazione a, Riccanza, ha reso partecipi i suoi fan delle novità che lo coinvolgeranno nei prossimi mesi. Tramite alcune Instagram Stories, Zorzi ha rivelato che questo per lui è stato e sarà un anno di cambiamenti sia dal punto personale, ma soprattutto da quello professionale. È stato un anno di metamorfosi, e non vedo l'ora di condividere con voi i miei nuovi progetti, soprattutto quelli televisivi che sono molto fighi. Non ne sto parlando perché deve essere fatto tutto con i dovuti modi e i dovuti tempi, ma ci sono grandi cose in serbo per me. Queste le parole di Zorzi, che ha così voluto informare i fan di ciò che sta accadendo, e che accadrà nella sua vita, esprimendo la sua impazienza nel renderli partecipi di tutto ciò. A proposito delle sue periodiche assenze dai social e in particolare dal mondo della televisione, Zorzi ha approfittato anche per rispondere a tutte le domande che gli vengono poste a riguardo. Ho letto tutto sul mio futuro lavorativo. Volevo dire che c'è chi questo lavoro lo prende sul serio, e si riserva di non fare nulla per dei periodi, per capire quello che si vuole fare nella vita. Non per forza bisogna avere quella bulimia televisiva di esserci a tutti i costi. Grazie. 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 Grazie.